Gioca alto, non è possibile che la palla rimbalza e va a 12 metri alto e tu non riesci a fare un passo Da dove eri? Sei saltato, no? Mi interessa che tu liberi le gambe e corri per recuperarmi questi palloni Tre rotazioni sei quando l'opposto è in seconda linea Buona recensione e soprattutto se hai girato un po' con la spalla in avanti e in centro in avanti Stag, più di... Vai ragazzi, vai di festa Grazie a tutti Ha fatto tre pallonetti Quando sei sotto la palla, sui quattro metri, ma non aveva tre tecniche, un pallonetto di là E questo l'ho chiamato, quello di posto 1, controattacco Erano saltati in tre, lì l'ho posto secondo linea Se facciamo un pallonetto, anche se lo prende, ci controattacca Facciamo le cose per bene, dai ragazzi Dai dai dai, diamo, diamo, diamo Go go Niki continuava E siamo ancora a un punto in avanti Ma abbiamo detto che stiamo nella difesa un po', la palla è imbalzata tre volte, la guardiamo. Due murate sulle palle scontate, abbiamo detto che sono bravi il muro a tre, la palla l'ha ricevuta fuori il muro molto più. Due murate sulle palle scontate, abbiamo detto che sono bravi il muro molto più. Una buona recensione, prima una snac ha dato in posto 4 e questo non è riuscito ad attaccare, a parte una palletta che è finita ad attaccare. Ricordi? Cioè doveva alzare dietro, alzato davanti, inattaccabile. Dai, 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 dai. Oh, c'è, 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 c'è. 所以, con segni Cause, c'è, c'è Oliver S fractions, con il muro molto» Il posto ciclo un po' interno in eccesione, il posto sei uno lunghi, pazienza. se la palla è un po' staccata girati bene facciamo una cambio palla tenta non volare il muro sulla palla spinta perché lui è vicino ma passa sempre tra voi dai 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 bravo abbiamo fatto tutto bene adesso un punto di nuovo batti l'opposto prevalenza 6-1 posto 5 un po' interno guardiamo però subito dopo la nostra decisione guardiamo il muro la palla arriva e la palla è giusta guardiamo il nostro nuovo muro dai 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 copertura eh copertura io vado dietro io aspetti a finir fare la ricorsa e vado dietro anche se sei qua dopo partiretti nel gioco Grazie a tutti. Grazie a tutti.